bella lega oggi siamo qui per provi una coscia che ne dite se voi se voi esattamente voi mi dite dei comandi uno schema di comandi da mettere impersonalizzato io lo metto e facciamo tre singolo in più comandi mi dite più sarà varia cioè se più persone mi dicono comandi sarà più varia naturalmente quindi niente quanto è figo poi me lo compro va quindi io aspetto soltanto la vostra risposta bella lega poi lo pubblico ciao bella